bene ragazzi questo è un video fantastico quindi dovete subito lasciare like aspetta arrivando ciao 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 addio sta arrivando il padrone per tutti i ragazzi ben tornati in questo nuovo video su domenica tv e oggi siamo su slatery come avete notato da qua che siamo sulla schermata principale dal titolo penso anche nella descrizione e oggi siamo in compagnia con nessuno sono solo non fa niente perché giocheremo e siamo insieme a voi che questa è una compagnia mamma mia pazzesca pazzesca intanto incomincio a voi mi sono fatto la scherm multicolore perché secondo me mi porta fortuna ecco perfetto ho parlato non c'è nessuno no 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 questo è della svezia meglio di no anzi sì 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 bella sta screen questo è impazzito ora muoviamoci questa immagine buona capisco forse fuoco lo seguirò è visto che io vorrei giocare insieme a franci scriveteci nei commenti se sempre tubo fa il buon c'è ce li attiva non credo che ce li attiva però noi ci speriamo ehi ma perchè qua sono tutti pazzi grazie per questo sacco Sacra Oh, ci sono solo una alla fine Come si chiama? Shaky McSnake, credo No, vabbè Bello quel rosso Aspetta O il viola, no, il viola, il viola E' meno pericoloso per me Oppa Vieni me addosso No, 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 no Per un centimetro E niente Chiudi, ma non me ne frega Dai, ma per un centimetro Vabbè Beh, questa sarà la mia partita Arriverò massimo Secondo me non ce la faccio Secondo me decimo Decimo di vero Sì, sì, sì Arrivo millesimo No, 477 Su 484 Stavo coltandola in basso Vieni, vieni Vieni Mamma mia Vieni Qua quanti punti belli Bambam Oh, però sto parlando poco Devo parlare Che Che le faccio fare i video Mh Aiuto Oh, mio Dio Quello Quello non era normale Questa è la mia schien In vecchia Vieni Vieni E niente Lo sapevo io Pubblicità Ma certo Chiudi, chiudi Cambiamo la schema Allora Facciamola Nella No, me la fa così No, ho sbagliato Facciamola Così Con questo Sembra un cielo stellato Mi piace Speriamo che ci sia Porta fortuna Che è successo? Aiuto, che laggata Uh, no, era morto Questo era già Ecco, infatti Eri già morto tu Oh, mio Dio No Questo è da uccidere Questo è da uccidere È da uccidere questo Non dico neanche il perché Ma è da uccidere Vieni, devi venire Devi venire Eh, mi ha ucciso Mannaia Dai Basta Cambiamo Sto cambiando Ogni 3 secondi Ehm Bella questa così Eh, un occhio Bella Io voglio quella con gli occhi grandi Eccolo Eccolo Questa Eccolo Eccolo Questa Eccolo Questa Eccolo No, bella no Dov'è quella? Con gli occhi grandi Eccolo Ok, questa Mi piace Guarda quanto è veloce Wow Sembrava una lumaca Invece Niente Ho fatto Eh, dai, però no No, no, no E' normale che non sono pubblicità Al video Questa no io E' impazzivo Bum Bam Bum Addio Addio Punti miei Io uccido Punti sono miei Quale è E' morto, è morto, è morto, è morto E' morto il gigante E' morto Golia Chiara Cosa sta succedendo? Oh mio dio Cos'è successo In tre secondi? Sono trentaquattresimo Subito Così Da nulla Aspetta Se uccido questo sono Almeno decimo Gigi 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 J J No, non uscire Tu non puoi uscire Dai che gli occhi Eh, niente Sono morti Sono morti Gli occhiosi Eh, mi dispiace Oh, trentaduesimo Easy 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 man Easy Gigi Mi dispiace Ma C'è, non ci posso fare nulla Sono chiusi Sono chiusi Wiii Ehi Wow Non ti permettere, sai E questo si è suicidato Ha fatto prima Oh Volevo fare Il king Dai, muori O di suicidi O di suicidi O soffri dai a vita Ecco Si è suicidato Sono 22esimo Wow Mi piace Dicevo all'inizio del video Decimo Minimo Decimo Massimo Mmm Non c'è Dice Ma ecco Questa è una portata Sfiga Ma voglio Cento, cento Chiudiamo il giallo Grandi Che sei morto No, 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 no No, 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 no Aspetta No, 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 no Dopo questa cosa non non credo più di giocare a questo gioco Ma Ritornerò su questo gioco solo se ci arriveremo Alla bellezza di Ci Anzi no Se No Se il like Ecco Lasciamolo così E noi Intanto Ci rivediamo al prossimo video Ciao Vabbè Sto usando tutta l'idea che è nel mio corpo Vabbè Ciao ragazzi